buonasera cari amici di barba bianco rossa benvenuti in questo nuovo video dunque ditemi voi da dove devo iniziare dal sesto pareggio di fila da questo 2 a 0 2 a 2 rimonta da parte della reggiana insomma ragazzi non si riesce più a vincere nemmeno con le due punte messe in campo che pure avevano sbaragliato la difesa avversaria ad un certo punto dall'inizio del secondo tempo quando sono entrati sia favilli che novakovic per manzari e lasagna manzari che aveva colpito comunque la bella azione il palo esterno coperto da bardi cosa possiamo dire la partita l'abbiamo vista tutti quanti il bari ha giocato bene poi si è spenta la luce ad un certo punto gol che è stato convalidato dopo la review alvar per quanto riguarda lucchesi della reggiana tenuto in gioco da un piede di vicari e poi quella uscita sconsiderata oltre che insomma il passaggio maldestro del portiere radunovic che fino a quel momento si era comportato abbastanza bene ha procurato il calcio di rigore poi trasformato da gondo per il 2 a 2 finale purtroppo non riusciamo anche mentalmente questa squadra ad amministrare il gioco ad amministrare il risultato ed è un campanello d'allarme a questo punto ritengo probabilmente ci sono quest'oggi anche degli errori da parte di mister long la partita era già vinta era già vinta su 2 a 0 la palla diciamo a viaggiava in maniera serena per noi in tutti i reparti del campo eravamo padroni comunque delle azioni sta di fatto che poi bastano alcuni episodi in questo campionato che sappiamo è sempre difficile come quello della serie b mai abbassare la guardia fanno riaprire d'amblè come se nulla fosse le partite che magari inizialmente si pensava fossero già indirizzate in questo caso è successo a noi addirittura doppia rimonta e un punto ancora quindi il bari sale a quota 14 questa politica del punto sempre del punto però ragazzi a questo punto io ritengo che ci sia ci sia ci sia un problema ci sia un problema di amministrazione proprio della della gara del risultato perché è impossibile questa poi fa seguito ad altre rimonte che ci sono stati in passato molto deluso molto veramente a fine partita avvilito dal risultato perché finalmente avevo visto un buon bari un bari che si era risvegliato quest'oggi sotto l'aspetto della determinazione dell'approccio in campo delle azioni anche manovrate finalmente senza il gioco aereo quindi azioni manovrate azioni che portano al gol ben fatte soprattutto per quanto riguarda gli assist poi le ripartenze che hanno portato prima al gol di ben ali con assist di novacovic e poi al gol dello stesso novacovic con assist da parte di sibilli purtroppo è questo è il calcio soprattutto è questo le partite bisogna stare fino al 95esimo sull'attenti ogni volta ogni partita e mai mai essere arrendevoli probabilmente c'è qualche errore da parte di mister longo magari qualche difensore magari vedere mantovani un assetto muro difensivo per mantenere il risultato vecchia scuola no mettere un po il pullman non è servito a questo però dagli errori soprattutto quelli nostri soprattutto di radunovic poi si è data molta più chance e sicurezza agli avversari che si sono venuti a prendere il punto al san nicola sesto punto di fila per bari per il bari e quindi diciamo che questo cammino non è dei più soddisfacenti quindi anche se la striscia di risultati utili consecutivi continua a fine gara tutti quanti in cerchio abbracciati con il moreno longo che parlava ma è un classico di ogni fine partita peccato veramente peccato perché oggi potevamo commentare una un bari in gran spolvero quest'oggi ed una gara veramente forse potremmo dire la miglior gara insieme a quella di frosinone di questo avvio di campionato purtroppo non è stato così io vi saluto vi auguro buon weekend è andata così purtroppo sempre alle la bari alle e speriamo alla prossima a salerno contro gli amici granata di non andare a prendere il settimo pareggio di fila sembra questo oramai il nostro marchio di fabbrica la x come si faceva una volta sulle schedine bari reggiana 2 a 2 e appuntamento alla live di lunedì sera sono molto arrabbiato molto avvilito molto deluso ma non dell'atteggiamento dei ragazzi sì dell'atteggiamento anche dopo il 2 a 0 ma la partita era già finita è proprio non lo so ragazzi non lo so cosa può essere la sorte o l'attenzione l'attenzione soprattutto e l'essere concentrati fino al novantaseiesimo probabilmente è quest'ultima cosa ciao a tutti appuntamento alla live di lunedì sera mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like attivate la campanella delle notifiche e buon dibattito nei commenti basta basta con questi pareggi basta ciao a tutti